Ciao a tutti, con questo video vorrei parlare alle amanti, a tutte quelle donne che fanno da amanti agli uomini sposati. Care donne, vi state prendendo lo scarto delle mogli, perché nel 90% dei casi la moglie ha scartato il marito e lui ripiega in un amante. È probabile che ripieghi in un amante per fare solo ed esclusivamente sesso ed è comunque inutile che voi crediate a tutte quelle stupidaggini che un uomo sposato vi dice per continuare a fare sesso con voi. È stato un uomo rifiutato dalla moglie nel 90% dei casi, magari è lei che non si concede più sessualmente a lui perché non gliene può fregare di meno, lo ha scartato, lo ha lasciato a se stesso e quindi lui riversa le sue frustrazioni perché capita con l'amante riempiendo questa donna di stupidaggini, facendo spesso la parte del martire, facendo credere che ci sta per i figli o per scuse. In realtà è sempre la moglie ed è coinvolto ancora con la moglie. La dimostrazione dei fatti è che sta con lei, che sia per un motivo per l'altro sta con la moglie, non sta con voi, con voi fa solo ed esclusivamente sesso e non fate cose turche, non prodigatevi a fare chissà cosa con l'obiettivo di far lasciare la moglie perché tanto non funzionerà, non funzionerà nella maggior parte dei casi. Se fosse davvero attraverso il sesso, se fosse davvero attraverso la funzione dell'amante che si possa far innamorare e amare un uomo, questo sarebbe libero. Con questo video è tutto, un bacio dalla mente. Ciao ciao!